Max, altra vittoria, altri tre punti, la ultima volta ci eravamo lasciati, c'era da migliorare qualcosa, oggi qualche miglioramento si è visto in campo Max? Ma io non lo so cosa si è visto da fuori, io sinceramente non sono tanto contento della prestazione generale della squadra perché abbiamo sofferto in alcune situazioni che loro sono stati bravi, però noi potevamo fare meglio diverse cose, poi sai magari in campo è una sensazione, da fuori si vede altro, te ne rendi conto magari il giorno dopo quando vai un po' a rivedere tutti i vari fondamentali e le varie fasi di gioco, però ecco ancora una volta l'importante è la vittoria, è sofferta e va bene così è un altro piccolo passettino. Domenica si va a Verona, altro avversario ostico che ha sicuramente qualche giorno in più di riposo invece domani in palestra e si torna ovviamente a lavorare per migliorare altri passi, per fare altri passi verso la miglior forma. Sì, noi abbiamo giocato oggi va bene perché andiamo al mondiale e sono molto felice di aver giocato oggi, giochiamo contro una squadra che secondo me è molto forte, che ha avuto delle difficoltà perché ha avuto tante assenze, ma è una squadra di livello, quando saranno tutti al completo sarà una squadra tosta per tutti, quindi ecco ci aspetto un'altra partita difficile perché come al solito tutte le squadre contro di noi batteranno forte da prima all'ultima palla e niente, quindi sarà un'altra partita di sofferenza, ma meglio che sia così è quello che ci serve in questo momento. Oggi Max, chiudo con una battuta, una delle cose più belle è stato l'ingresso in campo insieme ai bambini e ragazzi povedenti e ciechi della riassociazione Real High Sport, è stato emozionante da fuori coinvolgerli in tutta la fase pre-partita. Sì, sì, molto, al di là del risultato e la partita forse è stata la cosa più bella, perché poi oltre lo sport, oltre tante cose, ti rendi conto delle cose veramente importanti, spero che i ragazzi siano stati felici, per noi tutti è stato sicuramente emozionante, bello, una bellissima iniziativa, e quindi credo sia stato veramente il momento più bello per tutti. Grazie Max.